Sono linee assolutamente condivise, le abbiamo condivise con tutto il mondo della scuola, con le forze sociali, con i genitori, con gli studenti, con la disabilità, con le scuole paritarie e ovviamente con gli enti locali che ci hanno dato veramente una grande mano. Sono linee guida immediatamente operative. Ci sono le soluzioni e ci sono le risorse per realizzare queste soluzioni. Il Presidente del Consiglio ha appena detto che ci sarà un miliardo in più da stanziare. Un miliardo in più, per me che sono Ministro dell'Istruzione e che vengo dal mondo della scuola, è veramente tanto se pensiamo che oltre a quel miliardo ne abbiamo stanziati 4,6 di miliardi da gennaio fino ad oggi sulla scuola.